E di nuovo Giostra Sulmona, entrata nel vivo la 22esima edizione della Giostra Cavaleresca, con i suoi suoni e colori, spettacoli, sontuosi cortei storici e le attesissime sfide all'anello in piazza Garibaldi. Tra emozioni e tensioni, ultimi preparativi e prove generali, sono pronti i sette cavalieri che domani sabato 30 luglio e domenica 31 luglio si affronteranno alla conquista del 22esimo palio, realizzato dagli artisti di Pratola Peligna, Nestore Presutti ed Ezio Zavarella. Pronti alla lizza, come recita in ogni duello, l'invito pronunciato in campo dal maestro giurato a dare l'inizio al torneo. Tutto comincerà alle 16.30 nel cuore antico di Sulmona, quando partirà il corteo storico, composto da 500 figuranti, musici sbandieratori, in costume d'epoca, dal piazzale antistante alla cattedrale di San Panfilo, per approdare poi in piazza Garibaldi, dove alle 18 circa partirà il torneo all'anello. Sarà il console dell'ambasciera di Australia in Italia, Louis Smith, ad impersonare nel corteo storico, nella giornata conclusiva della Giostra, la regina Giovanna d'Aragona, principessa di Sulmona, nella revocazione storica della sua visita in città. La regina indosserà un raffinato abito blu, firmato dallo stilista abruzzese Alessandro Pischedda, ispirato alle madonne fiorentine, con un mantello broccato fiorentino, ricamato a mano con fili d'oro, cinta di filigrana e pietre preziose, mentre l'incantevole corona, realizzata dal designer abruzzese Adelmino Romito. La regina farà il suo ingresso nel corteo storico da Palazzo dell'Annunziata, salendo a cavallo, nella sfilata sarà affiancata da due ancelle, escortata da armigeri e guardie d'onore, per raggiungere il campo di gara in Piazza Maggiore, dove prenderà posto sul trono allestito sul palco sottostante la Quedotto Miedevale, dando inizio alle sfide. Sarà proprio la regina a consegnare il palio al vincitore della ventiduesima giostra, nella cerimonia che precederà con viviali e feste, nelle piazzette, negli angoli più belli e suggestivi della città antica, organizzare dei borghi e sestieri. Pronti alla competizione sette cavalieri, Marco Di Afaldi, che difenderà i colori del sestiere di Porta Manaresca. Correrà per il borgo Pacentrano il cavaliere Riccardo Ramponi, mentre per il borgo San Panfilo scenderà in campo Daniele Scarponi. Per il quinto anno consecutivo sarà Gioele e Bartolucci a correre con il borgo di Santa Maria della Tomba. Ad indossare la casacca Scacchi del sestiere di Porta Bonomini sarà Alfiero Capiani. Alessandro Scoccione difenderà i colori del sestiere di Porta Iapasseri. Dal 2013 corre per il sestiere di Porta Fili Amabili Matteo Gianelli. La giostra quest'anno apre al mondo con la presenza del console dell'ambasciata australiana. Siamo orgogliosi che la manifestazione abbia ottenuto riconoscimento della regione tra le tre manifestazioni storiche più importanti d'Abruzzo, afferma Domenico Taglieri, presidente onorario della giostra. Vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti e sette cavalieri, dichiarà Maruizio Antonini, commissario reggente, aggiungendo ringraziamento per tutto il popolo della giostra e per i volontari dei borghi e sestieri che lavorano istancabilmente tutto l'anno per la riuscita della manifestazione. Che la giostra abbia inizio.